Una canzone è stata scartata, il cantante si è ucciso, ma a Sanremo il festival continua a sorridere. La macchina della canzone deve proseguire la propria marcia, più dischi, più cantanti, più consumo, più soldi. Una macchina che ha schiacciato chi non ha potuto sopportarne la violenza. Ciao, amore, ciao, la canzone di Luigi Tenco si vende adesso a migliaia di copie. È un affare anche e soprattutto adesso che lui non c'è più. Sconfitto dalla catena di montaggio della canzone, Luigi Tenco non ha voluto più saperne di tutto questo. Mentre lì dentro il festival ha schietato, continua, la gente guarda perplessa. E per lui, per Luigi Tenco, non ci sono ormai che pochi fiori sotto i manifesti.